Ma credo che siano le condizioni ottimali perché ormai l'economia mondiale pretende questa grande connessione e ci sono le risorse del PNRR per realizzarla, quindi credo che sia un momento nel quale ci dobbiamo impegnare con la massima determinazione per arrivare a rispettare quell'invito dell'Europa che per il 2030 chiede che tutte le nostre nazioni possano essere ampiamente connesse, possano essere ampiamente collegate per anche cercare di eliminare quel digital divide che è un punto di riferimento purtroppo negativo. Chi non riesce a superare questo gap rischia di essere un po' tagliato fuori, così come le persone fisiche ma anche i territori ed è un po' la politica che noi stiamo cercando di portare avanti sia con le politiche delle aree interne sia per cercare di creare quella smart land che dovrebbe essere il punto di riferimento per il nostro futuro. Grazie